Teatro, il letto tempo migliore, e questo il cleme con il quale è stata presentata alla stampa la tredicesima stagione del Teatro Carlo Gesualdo d'Avellino. Da domani alvia la vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli delle rassegne Grande Teatro e Teatro Civile. Si inizia con un grande ritorno per celebrare l'anteprima della stagione teatrale. Massimo Ranieri con Sogno e Sondesto inaugurerà il cartellone con un concerto che ripercorre la sua lunga carriera. La grande lirica sarà di scena con l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, targato Teatro San Carlo, primo della rassegna Teatro Civile Alessandro Baricco con Palladium Lectures, una Alexio Magistralis sulle gusto e sui canoni della bellezza. A dicembre Massimo Ghini ed Elena Santarelli nel classico della commedia americana Quando la muoia in vacanza con le musiche di Renato Zero, secondo appuntamento con il Teatro Civile martedì 16 dicembre con il premio Oscar Tony Servillo e il suo Servillo legge Napoli, sentito omaggio dell'artista alla cultura partenopea. Gli appuntamenti di gennaio 2015 al Teatro Gesualdo si aprono con l'Enrico III di Massimo Ranieri, che interpreterà uno dei classici della drammaturgia shakespeariana con le musiche del premio Oscar Ennio Morricone. Sarà la volta poi del terzo spettacolo del Teatro Civile con America di Kafka. La prima orchestra multietnica italiana, orchestra di Piazza Vittorio, farà sognare con il suo stile originale sulle note del flauto magico sabato 24 e domenica 25 gennaio, mentre il 27 Carlo Giuffre ricorderà la giornata della memoria con il sentito omaggio la lista di Schindler. Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni saranno invece i protagonisti di La Gatta sul tetto che scotta, caposaldo della drammaturgia statunitense. Risate garantite con la comicità partenopea di Vincenzo Salemme, che porterà ad Avellino sogni e bisogni, commedia liberamente ispirata al romanzo Io e lui di Alberto Moravia. Il Teatro Civile chiuderà i suoi appuntamenti con i discorsi alla nazione di Ascanio Celestini, tra i maggiori interpreti del Teatro di Narrazione Italiano, mentre la stagione Grande Teatro del Gesualdo terminerà con uno spettacolo cult degli anni 90, la scuola di Daniele Lucchetti e Silvio Orlando, successo teatrale e cinematografico, che sarà di scena sabato 25 e domenica 26 aprile. Grazie a tutti.